ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale ending the maid oggi vi spiegheremo come lavorare questa fantastica borsetta pochette o anche borsellino in cordino con una bella clic clac in tono apprendono la base rettangolare è un lavoro semplice fatta di punti molto facili da realizzare ma a contempo rappresenta un prodotto veramente interessante elegante adatto a tutte le occasioni iniziamo quindi dalla descrizione dei materiali che utilizzeremo per questo lavoro utilizzeremo del filato della ice yarns che si chiama macramé cord abbiamo acquistato insieme alla clic clac presso il sito di merceria italy artisan di francesca di cui trovate in descrizione tutti i riferimenti ci basterà un gomitolo e mezzo in quanto abbiamo scelto una clic clac piccolina sono 12 centimetri e mezzo di larghezza e di altezza circa 5 centimetri quindi aperta sarà circa 10 centimetri lavoreremo con l'uncinetto numero 4 e potremo utilizzare un piccolo marca punti quando lavoriamo le clic clac dobbiamo creare delle basi che siano più o meno della stessa dimensione della chiusura utilizzata come ho detto in questo caso abbiamo una larghezza di 12 e mezzo e una larghezza di 10 quindi noi dovremmo creare una base se vogliamo più o meno di questa grandezza o un po più grande comunque assolutamente non più piccola altrimenti non la riusciremo a uscire in questo caso io la farò leggermente più rettangolare per dare una forma un po più sfiziosa al borsellino ma soprattutto perché voglio spiegarvi come si fa a calcolare il rapporto tra larghezza e l'altezza nel caso in cui non vogliamo creare una base rettangolare partendo dalla catenella centrale se vogliamo semplificare il lavoro noi creiamo un rettangolo dove creiamo la base laterale e poi saliamo se vogliamo invece creare un motivo geometrico al di sotto della base partendo dal centro e quindi lavorando intorno vi faccio vedere come si fa il particolare partiamo da un caso molto semplice ipotizziamo di voler fare un rettangolo in quella base e 20 e l'altezza e 10 e dobbiamo fare la differenza tra questi due dimensioni ovvero 10 cm quindi noi partiremo da una catenella centrale che lunga 10 cm perché ad ogni giro noi aumenteremo di un centimetro per lato quindi creeremo un lavoro che fatto in questo modo perché qua faremo le maglie per girare dove aumenteremo per esempio facendo cinque giri di 5 cm su questo lato 5 su quest'altro quindi avremo 10 5 su questo 5 su quest'altro più 10 centrali fa 20 ma questa è una regola che vale sempre facciamo il caso per esempio che noi vogliamo fare invece 12 facciamo 20 meno 12 8 partiamo da 8 centrali allora 8 e 10 sono 18 più 2 quindi vuol dire che dovremmo fare 6 giri 6 e 6 12 più 8 20 e ci troviamo 6 e 6 perché naturalmente l'altezza della catenella è di pochi millimetri fa 12 quindi dimostriamo in questo modo che lavorando a partire da una catenella centrale noi dobbiamo fare la differenza tra la base e l'altezza e questa differenza sarà la lunghezza della nostra catenella di partenza decidiamo ora quanto vogliamo larga la nostra pochette il nostro borsellino e ho deciso di superare il margine di 12 cm di 3 cm da un lato e dall'altro quindi 12 più 6 sarà una base larga 18 cm come abbiamo già detto l'altezza di 10 quindi 18 meno 10 devo fare una catenella di 8 cm ho fatto 14 catenelle e mi sono resa conto che sono sufficienti a raggiungere gli 8 cm desiderati a questo punto faccio una catenella in più e inizio un giro di maglie basse quindi mi dovrò trovare 14 maglie basse ho fatto le 14 maglie basse nello stesso punto ovvero nell'ultimo faccio altre due maglie basse una e due facendo attenzione non far allargare il buchino di avvio altrimenti antiestetico anche se si può riparare per facendo una piccola cucitura da un punto e ora quindi la quattordicesima già l'ho fatta perché ho fatto la terza maglia dell'apice inizio a lavorare 13 maglie 12 dall'altro lato 3 nell'ultimo punto come fatto all'inizio deve fare tre maglie la prima già l'ho fatta perché la maglia di avvio del mio lavoro ne faccio altre due 1 e 2 dopo di che entro sotto la prima maglia lavorata e chiudo il giro con una maglia bassissima faccio una catenella e sono pronta a riprendere con il secondo giro posso ora per mia comodità segnalare le maglie di apice cioè le tre che ho fatto nei punti cardinali 1 questa la saltiamo e qui andiamo a fare con la marca punti mettiamo il segno lo stesso dall'altro lato ho chiuso quindi segno questa che la prima che sta nel centro una la salto e segno un'altra sono pronta per ripartire con il giro ho già fatto la catenella iniziale e faccio tante maglie quante me ne trovo lungo il cammino quindi 1 2 3 e così via 12 e 13 naturalmente mi trovo 13 maglie sul la parte lineare poi ho le tre maglie che ha contrassegnato diciamo così allora dove la marca punti che cosa faccio dentro faccio una maglia bassa 2 catenelle e un'altra maglia bassa nel punto centrale quello che non avevo contrassegnato faccio solo una maglia bassa sono arrivata all'altro marca punti quindi anche in questo caso in questa maglia farò una maglia bassa 2 catenelle e una maglia bassa tutte nello stesso punto ora proseguo la parte lineare anche qui se ho lavorato bene farò 13 maglie basse singole arrivata al marca punti ripeto la mia sequenza di angolo cioè una maglia bassa 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto nel punto centrale faccio solo una maglia bassa è arrivata all'altro marca punti ripeto la mia sequenza una maglia bassa 2 catenelle e una maglia bassa sono arrivata alla chiusura del giro quindi entro sotto la prima maglia quella dell'inizio del giro faccio una maglia bassissima e una maglia bassa ricapitoliamo vedete che il nostro rettangolo si sta già creando o 13 maglie lineari avendone abbiate 14 quelle al apice mi servono per fare la curva e poi lato corto quando ammettiamo poi gli angoli quindi me ne rimangono 13 lineari 3 nel primo giro che mi servono per girare altri 13 lineari e 3 nel giro per girare dopodiché quando poi lavoriamo per creare gli angoli facciamo la parte lineare e dove abbiamo contrassegnato le tre maglie di apice e nella prima facciamo una catenella 2 maglie basse la catenella in quella centrale facciamo solo una catenella e nell'altra nella terza che rappresentavano gli nostri aumenti nell'angolo facciamo sempre la stessa sequenza c'è una catena una maglia bassa 2 catenelle una maglia bassa lo stesso dall'altro lato proseguiamo ora con il terzo giro facendo tutte le maglie basse nella parte lineare siamo arrivati alla maglia dove ci sono le due catenelle di separazione all'interno di queste lavoriamo una maglia bassa di nuovo la nostra sequenza 2 catenelle è una maglia bassa ora lavoriamo una maglia bassa senza saltarmi nessuna perché pure vizionamenti un'altra maglia bassa ancora un'altra maglia bassa dopodiché arriviamo nell'angolo nell'angolo lavoriamo una maglia bassa 2 catenelle una maglia bassa tutto nello stesso punto dopodiché entriamo nel punto immediatamente successivo facciamo attenzione a non saltarne e lavoriamo il nostro lato lungo la parte lineare arrivati nel punto di angolo dove abbiamo le due catenelle di separazione qui all'interno facciamo una maglia bassa 2 catenelle e una maglia bassa lavoriamo ora un'altra maglia bassa ancora un'altra seconda terza e arriviamo nell'altro angolo anche qui ripetiamo la nostra sequenza maglia bassa 2 catenelle maglia bassa ci tocca lavorare un'altra maglia bassa per poi chiudere il giro entrando come al solito sotto la prima maglia ed eseguendo una maglia bassissima allora anche in questo caso preferisco ricapitolare perché che cosa succede lavorando negli angoli questa sequenza che cosa succede che se nel primo giro avevamo una maglia bassa di separazione tra le maglie di angolo ora ne abbiamo tre nel prossimo giro ne avremo 5 7 9 eccetera perché per ogni giro ogni lato aumenta di due maglie tenendo conto di questo abbiamo tutti i riferimenti per poter proseguire perché semplicemente nelle maglie di angolo continueremo a fare la nostra sequenza e nella parte lineare dovremo fare attenzione a calcolare sempre due aumenti per ogni lato per ogni giro lavorando a punto basso per coprire l'altezza della che clac ho eseguito 9 giri come vi avevo detto ho voluto fare una base rettangolare un po più grande e quindi ho alzato il lavoro per circa 10 centimetri ovvero l'altezza della nostra chiusura e poi ho debordato di circa 3 centimetri questo perché mi piaceva molto questa chiusura molto particolare però avevo bisogno di una borsetta di un borsello in cui poter inserire almeno il cellulare a questo punto dopo aver effettuato i soliti giri con la sequenza che abbiamo negli angoli dobbiamo fare un giro molto semplice di rifinitura a punto basso quindi lavoriamo a punto basso lungo tutto il laterale e anche negli angoli a questo punto del lavoro non dobbiamo fare più aumenti per cui nell'angolo invece di fare le due maglie basse intervallate dalle due catenelle facciamo semplicemente una maglia bassa e continuiamo dall'altro lato in questo modo il lavoro non proseguirà più in larghezza ma inizierà a crescere in altezza vi faccio rivedere arrivati all'altro angolo entriamo nel punto dove di solito facevamo la sequenza e molto semplicemente facciamo solo una maglia bassa e continuiamo la lavorazione lungo i diversi lati sempre con una semplice maglia bassa fino a completare tutto il giro siamo pronti ora per iniziare la lavorazione del punto che contornerà il laterale della nostra borsetta ho scelto un punto molto semplice chiuso in modo che possa contenere bene tutte le nostre cose e soprattutto molto facile da seguire ideale per chi ha le prime armi iniziamo lavorando un giro a maglia alta quindi facciamo tre catene dopo aver chiuso naturalmente il giro precedente facciamo tre catenelle queste tre catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta quindi questa non la lavoriamo immediatamente successiva alle catenelle andiamo nella successiva e lavoriamo la prima maglia alta un altro modo per rendere meno visibile questo buchino che si viene a creare anche questo metodo qui chiudiamo il punto ecco chiudiamo il giro facciamo una catenella e poi nello stesso punto facciamo una maglia alta in questo modo è meno visibile il congiungimento tra l'inizio e la fine del giro proseguiamo a maglia alta e lavoriamo una maglia alta in ciascuno dei punti sottostanti compresi quelli di angolo senza fare aumenti senza fare diminuzioni semplicemente una maglia alta in ciascuno dei punti sottostanti abbiamo seguito il giro maglie alte ora arrivati alla fine chiudiamo il giro stesso con la nostra solita maglia bassissima bisogna ora iniziare un nuovo giro a maglie basse quindi in ogni punto sottostante facciamo una maglia bassa anche in questo caso senza fare aumenti e senza fare diminuzioni iniziate a vedere che il lavoro inizia ad alzarsi quindi non sta crescendo più in larghezza ma inizia a crearsi questo bordo che poi rappresenterà l'altezza del lavoro stesso finito questo ulteriore giro fatto a maglia bassa facciamo il primo vero e proprio giro del nostro punto operato una catenella filo sull'uncinetto nello stesso punto facciamo una maglia alta passiamo al punto successivo questo corrisponde vedete alla maglia sottostante maglia alta dove sta la maglia alta successiva filo sull'uncinetto andiamo a fare una maglia alta presa avanti quindi attraversiamo il punto e chiudiamo come se fosse una semplice maglia alta questo punto quindi è stato lavorato a maglia alta presa avanti nel punto successivo facciamo attenzione che è questo che punto già stato lavorato viene lavorato a maglia alta quello ancora successivo questo corrisponde al punto sotto vedete quello successivo lo agganciamo per fare una maglia alta presa avanti in effetti noi abbiamo semplicemente il susseguirsi di un punto a maglia alta punto a maglia alta presa avanti dobbiamo fare solo attenzione a non moltiplicare il numero delle maglie oppure a saltarne quindi filo sull'uncinetto abbiamo questa che la maglia alta e quindi sopra ci facciamo una maglia alta successivo vedete questo facciamo una maglia alta presa avanti quindi attraversiamo il punto in orizzontale e tiriamo su come se fosse un semplicissimo punto a maglia alta con questa alternanza proseguiamo per tutto il giro finito il giro l'impostazione del lavoro è molto chiara abbiamo una maglia alta presa avanti che si alterna con una maglia alta normale e quindi si vengono a creare questi rilievi questi punti a rilievo che poi saranno la caratteristica del nostro lavoro ora dobbiamo fare un giro molto semplice abbiamo chiuso il lavoro quindi facciamo una catenella per alzare un giro semplice di maglie basse contorniamo tutto il nostro lavoro di un giro a maglie basse finito questo giro a punto basso iniziamo al nuovo giro di punti alternati in questo caso però iniziamo a lavorare dalla maglia presa avanti quindi facciamo una catenella una maglia bassa poi filo sull'uncinetto andiamo a prendere la prima maglia alta sottostante quindi dove c'era una maglia alta lavoriamo una maglia alta presa avanti e dove c'era una maglia alta presa avanti una maglia alta quindi ora abbiamo la maglia alta presa avanti e facciamo una maglia alta normale la prossima sarà una maglia alta presa avanti proseguiamo quindi sempre alternando i punti in questo caso in senso inverso l'effetto che noi otteniamo è quello di un punto alternato incrociato tra un giro e l'altro ora non è ancora molto visibile perché la lavorazione diciamo è limitata a pochi punti quando il lavoro crescerà in altezza vedremo molto meglio l'effetto finale di questo tipo di lavorazione allora siamo pronti per continuare da soli il lavoro in quanto molto semplicemente il prossimo giro sarà nuovamente un giro di punti bassi mentre dopo rifaremo un altro giro di punti alternati invertendo la lavorazione quindi se abbiamo iniziato con una maglia alta presa avanti inizieremo con una maglia alta alternata alla maglia alta presa avanti così via quindi un giro di punti e bassi un giro di punti alti alternati tra maglia alta e maglia alta presa avanti e ad ogni giro si cambia l'ordine abbiamo eseguito il totale di 20 giri 10 giri con le maglie alternate 10 giri con le maglie basse abbiamo chiuso l'ultimo giro di maglie alternate come vi ricorderete abbiamo eseguito la base che è circa tre centimetri più larga della cliccac quindi a questo punto dobbiamo riportare la larghezza a quella della cliccac altrimenti non riusciremo ad inserire il bordo all'interno della chiusura come facciamo se avessimo un punto semplice tipo una maglia bassa un punto maglia potremmo ridurre semplicemente riducendo il numero delle maglie lavorate ad ogni giro e quindi riporteremo la circonferenza quella necessaria in realtà noi abbiamo un punto particolare dove c'è un'alternanza di maglie quindi se riducessimo il punto sarebbe anti estetico quindi che cosa facciamo prendiamo il punto centrale del lato pieghiamo in questo modo cioè creando due lembi spero si possa vedere ve lo faccio rivedere perché avevo già messo i fermapunti guardate in questo modo tenendo presente che questo il centro rispetto alla base ok chiediamo in modo da avere questo lato interno che sia di circa 3 cm lo fissiamo guardate sia da un lato che dall'altro e facciamo la stessa cosa sull'altro lato lungo dove tra l'altro abbiamo anche la chiusura del nostro giro in questo modo noi riducendo la circonferenza con queste pieghe riportiamo la larghezza a quella della nostra clic clac molto semplicemente allora abbiamo lavorato il giro di maglie alternate ora lavoriamo il giro di maglie basse quindi a questo punto possiamo togliere il fermapunti e molto semplicemente entriamo nelle maglie davanti e dietro e facciamo la nostra maglia bassa in modo da unirle entriamo sotto la maglia davanti e sotto le maglie di dietro e tiriamo via un bel punto maglia bassa giriamo lungo tutto il contorno come abbiamo fatto per gli altri giri a maglia bassa fino arrivare all'altro fermapunti siamo arrivati con il nostro punto basso all'altro fermapunti e quindi all'altra piega chiamiamola così e iniziamo a lavorare passando sotto la maglia davanti e sotto le maglie di dietro e facendo sempre la maglia bassa facciamo in modo che i due lembi si uniscano perfettamente anche dall'altro lato togliamo il fermapunti passiamo davanti e dietro aggacciando per intero le maglie e proseguiamo il giro fino all'altro fermapunti e poi di conseguenza fino alla chiusura del nostro giro controlliamo che la circonferenza che abbiamo raggiunto sia pressoché uguale alla larghezza della chiusura arrivati alla fine del giro chiudiamo con la solita maglia bassissima a questo punto dobbiamo fare attenzione a rispettare l'ordine che avevamo nell'ultimo giro quindi iniziamo con la nostra solita serie di catenelle dopodiché visto che qui avevamo una maglia alta presa avanti e facciamo la maglia alta quindi questa rappresenta la nostra maglia alta e corrispondenza della maglia alta iniziamo a lavorare in modo alternato facendo la maglia alta presa avanti proseguiamo quindi come abbiamo fatto nei giri precedenti rispetto naturalmente dell'alternanza corretta ci permetterà di dare ordine alla lavorazione e quindi lavoro sarà sicuramente bello proseguiamo per 23 giri quanti riteniamo necessari per raggiungere la grandezza desiderata dopodiché il nostro lavoro sarà pronto per essere cuscito alla clic clac dopo aver chiuso il giro con le maglie alternate facciamo un altro giro di maglie basse dopodiché continuiamo molto semplicemente con l'alternanza di questi due giri vi consiglio di terminare il lavoro con un giro di maglie basse in modo che il lavoro sia più sottile e quindi sia più facile inserirlo all'interno della chiusura a questo punto una volta raggiunta l'altezza desiderata e avendo terminato il lavoro vi ripeto con il giro di maglie basse siamo pronti per mettere la clic clac passiamo ora alla posizione della clic clac in questo modo abbiamo preso i vertici del rettangolo e in corrispondenza abbiamo messo dei fermapunti esattamente in corrispondenza dell'angolo sulla parte superiore mettiamo questi fermapunti che ci permetteranno di tenere ferma la clic clac quindi cerchiamo di posizionare il vertice della clic clac con il vertice della borsa a questo punto siamo pronti per la cucitura della clic clac proviamo a chiudere in modo che sia più facile e agevole lavorarci prendiamo un arco sottile ma piuttosto grande e io utilizzo della lenza da pesca proprio comprata in un negozio di pesca o comunque nei vari negozi di bricolage piuttosto sottile ma anche resistente a questo punto con un uncinetto più piccolo ci aiutiamo ad inserire il bordo della borsa all'interno della chiusura partiamo da un punto di giuntura e con il nostro ago e la nostra lenza iniziamo la cuscitura entriamo quindi nel bordo io ho fatto anche un nodino e sbuchiamo dall'altro lato all'interno del buchino possiamo tenere anche il filo un po morbido mano mano che cuociamo provvederemo poi dopo 5-6 punti a tirare il lavoro e quindi a renderlo più più fisso ora entrando prima nel buchino dal lato esterno passiamo dall'altro lato e andiamo ad agganciare la borsa è un lavoro sicuramente non piacevole questo bisogna dirlo perché è un lavoro abbastanza non dico complicato perché chi è capace di fare l'uncinetto è capace di fare tantissime cose difficilissime però ci vuole un po' di pazienza dopo aver cuscito qualche punto in maniera anche piuttosto morbida possiamo iniziare a inserire definitivamente il bordo dentro e delicatamente attirare in modo che la lenza tenga fermi i punti una volta che abbiamo fissato bene il lavoro anche dal lato esterno vediamo di tirare bene i punti della lenza altrimenti rimarrà larga ecco vedete quanto filo sono riuscite a tirare via naturalmente facciamo attenzione a non spezzarla ma di solito questi prodotti sono molto molto resistenti questi prodotti tecnici per la pesca ecco qua dopo che abbiamo fissato bene tirato bene possiamo fermare il lavoro con qualche nodino cioè ripassando nello stesso punto in questo modo fermeremo meglio il lavoro e non tenderà diciamo a diventare lento nei prossimi passaggi quindi ogni 5-6 punti ripasso in uno dei punti nell'ultimo punto in modo da fermare il lavoro come se fosse proprio un nodo ok ora proseguiamo nello stesso modo cercando di non perdere i marca punti altrimenti la borsa viene storta quindi cerchiamo di tenere fede alle misure che abbiamo preso dopodiché con un po' di pazienza e un po' di fatica avremo finito la nostra borsetta una volta terminata la cucitura avremo terminato anche la nostra clip-clack ho messo dei vomitoli all'interno in modo da farvi vedere quella che sarà la forma definitiva una volta terminato tutto il lavoro con la base rettangolare le onde che abbiamo creato facendo la base un po' più larga della clip-clack abbiamo dato vita ad una pochette veramente interessante elegante facile da realizzare a questo punto vi auguro buon divertimento nello svolgere questo lavoro e sperando che lo stesso vi sia piaciuto vi aspetto al prossimo tutorial quindi iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella grazie a tutti grazie a tutti